Ha richiesto un poco più di tempo, determinato dal ritardo delle forniture, però è stato fatto un grande lavoro perché poi le imprese hanno recuperato e soprattutto ricordiamo che questa pista ciclabile è stata possibile perché abbiamo ottenuto un ingente finanziamento da parte del Ministro. Questa pista ciclabile l'ha pagata il Ministero all'interno dei finanziamenti sui ciclabili. Questo vuol dire che la città di Genova quando presenta i progetti, presenta i vari progetti e vengono finanziati. Il grande obiettivo è quello di unire Fiumara a Ponte Decimo, quindi con Superlavalle che è questo progetto che stiamo portando avanti. La Val Bisagno inizierà a breve, sicuramente entro l'anno. Per quanto concerne invece la Superlavalle della Val Bolcevera ci sono già i progetti, abbiamo già ottenuti finanziamenti all'interno di un decreto che finanzia le ciclabili universitarie e dobbiamo andare verso Ponente. In questo momento la priorità è proseguire bocca d'asse e andare verso Levante, ma raggiungere il quartiere di Sestri e andare a Ponte. Abbiamo il progetto anche di dare spazio per la mountain bike, che risponderemo anche per quanto riguarda un outdoor un po' diverso, se sono su strada, dei siti da dedicare a questo sport, ma direi che oggi possiamo goderci al meglio questa pedalata e anzi cercare di coinvolgere, avvicinare questo sport, anche chi non lo pratica magari a livello agonistico, ma con una pista del genere direi che venga invogliato chiunque, dai più piccoli agli adulti, perché davvero si può praticare, si può venire a fare una pedalata in sicurezza, godersi il mare, godersi i nostri siti di interesse come bocca d'asse e tutta la passeggiata, quindi direi che sia davvero un grandissimo progetto di cui essere orgoglioso. Inseriamo come tutti i mezzi di trasporto ecosostenibili, un'attenzione particolare, quindi con la realizzazione di una costa ciclabile del genere e anche l'utilizzo del bike sharing viene implementato, anche il numero di turisti è un aumento sia italiani che stranieri, quindi godranno e benificeranno e curiranno di questi servizi.